Nella ventiduesima giornata del girone F, Sam Benedettese batte Nereto con il risultato finale di 2-0. Decisive le marcature, una per tempo, di Lulli e Cardella. Per gli uomini del grosso, ora c'è il derby col Pineto. Con le immagini di Yuri Cantoro, passiamo agli elezzi della partita. Pronti via, la Sam si affaccia in avanti con Lulli, la sua botta da fuori e smorzata in corner da un difensore. Passano pochi minuti ed i padroni di casa costruiscono con un'altra buona occasione. Prima Fall e poi Cardella, non riescono però a gonfiare la rete a pochi metri dalla porta. La Sam tiene il pallino del gioco in mano, il Nereto gioca di rimessa, la botta da fuori di buono è troppo alta. Al venticinquesimo, però, gli uomini di Alfonsi pescano il vantaggio. Bella azione avvolgente da destra verso sinistra. Per Capitano Lulli è troppo facile appoggiare in porta da due passi, con annesse e sultanza sotto la curva. Sulle ali dell'entusiasmo si mette in proprio Lisi, l'arcobaleno a giro per un soffio non toglie le ragnetele dall'incrocio. Il primo tiro diretto verso lo specchio della porta per il Nereto arriva al trentanovesimo con Malfetta, neutralizza con ordine a Brandini. A rientro dagli spogliatoi ci riprova subito il numero sei rosso-blu, testando i riflessi dell'estremo locale. A Brandini ancora protagonista quando si oppone bene al fendente di falsetta da posizione un po' defilata. I ritmi calano, diminuiscono le chance da gol. Lisi è il più propositivo dei suoi, ma nell'occasione non sorprende un attento Palermo. Ci riprova il 24 di casa, ma il suo destro da incrociare è impreciso e si spegne sul fondo. Crescono i marchigiani nella seconda parte della ripresa, troppo debole l'incornata di Cardella da ottima posizione. Si fa però perdonare il bomber ex Pineto che a due minuti dal termine, nell'indecisione generale, infila Palermo da due passi. In genuo un po' il Nereto nell'occasione, molto furba la Samba che scatena le proteste degli uomini del grosso. È l'ultima emozione del match e dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara pone fine alla contesa. A Riviera delle Palme è 2-0 in una domenica di pioggia e troppa Samba Benedettese per un coraggioso Nereto.